Che cosa sono le beatitudini di cui parla la Chiesa? Le beatitudini sono il risultato dell'evoluzione raggiunta, dello stato di coscienza in cui l'individuo conosce il suo destino spirituale ed è quindi beato, è felice, perché nulla gli manca. Alle beatitudini siamo chiamati ogni mattina quando ci svegliamo e in ogni momento della nostra giornata, perché Dio è costantemente in noi. Le beatitudini quindi incombono su di noi, perché sono la vita del Santo e dell'individuo evoluto. Che cosa sono le beatitudini di cui parla la Chiesa? Le beatitudini sono il risultato dell'evoluzione raggiunta, dello stato di coscienza in cui l'individuo conosce il suo destino spirituale ed è quindi beato, è felice, perché nulla gli manca. Alle beatitudini siamo chiamati ogni mattina quando ci svegliamo e in ogni momento della nostra giornata, perché Dio è costantemente in noi. Le beatitudini quindi incombono su di noi, perché sono la vita del Santo e dell'individuo evoluto. Grazie. 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 Grazie.